la vittoria contiana si e questa è proprio è proprio la vittoria di antonio conte ragazzi primi tre punti del napoli in serie a io mo dico tutti quelli che già avevano preparato no tutto tutto quello che doveva essere il funerale del napoli dopo una partita ora cosa faranno cosa farà perché oggi il nuovo c'è un nuovo iscritto luca leva che arriva proprio nel momento opportuno quello della vittoria 3 a 0 del napoli di conte una vittoria che ragazzi ci porta prima di tutto entusiasmo spera che cosa è successo quando ne rest arrivano anche le notizie che che l'ala lì è andato fortissimo su victor rosimè e lo vogliono il nigeriano mi è arrivato in questo momento lo dice fabrizio romano e quindi se lo dice lui ci crediamo ma ragazzi passiamo alla vittoria sono entusiasta perché perché questi tre punti ci volevano contro una squadra che praticamente ha portato il possesso valla alla fine è andata avanti però molta più concretezza per il napoli perché veramente c'è stata una partita intelligente un napoli che non abbiamo mai visto così che ha accettato il secondo tempo anzi nel secondo tempo di concedere gioco al bologna perché per sfruttare quello che era il lavoro alle spalle antonio conte in questo momento sta arrivando il mercato e ragazzi perché sta per venire lukaku io faccio un plauso a raspadori che ha fatto la guerra a parte che si stava per segnare dopo quattro minuti mannaccia che jack non è stato proprio lucidissimo però jack ha fatto la guerra ragazzi e poi una partita stratosferica di giovanni di lorenzo che era ovunque perfetto nei movimenti difensivi vabbè gol una codificata perfetta proprio del gioco di conte del braccetto che inizia l'azione va a sviluppare in ampiezza e chiude l'azione con un passaggio di quara scheria che oggi è il mattatore raga perché quara scheria è colui che ha cambiato le sorti della partita andiamo per sottolineare che se c'è alessandro buongiorno lì indietro la manovra si sviluppa molto meglio perché quara forza molto di più le giocate perché sa che alle spalle c'è alessandro buongiorno che è bravissimo ad andare a difendere in avanti ma poi ragazzi una compattezza di squadra importante un lavoro da da giganti sia di anghissà che di lobotica ci sono delle cose negative perché ancora siamo al 10 per cento del napoli che vorrebbe antonio conte perché nel primo tempo dopo sette minuti di dominio soprattutto di tantissima intensità del napoli c'è stato un buco enorme perché perché ancora i movimenti non sono congrui in una pressione alta perché conte all'inizio tendeva a tenere sia anghissà che lobotica molto alti però qualche volta la difesa non saliva e il bologna ci ha attaccato alle spalle quindi ancora un po di campo in mezzo però man mano durante la partita soprattutto nel secondo tempo il napoli ha chiuso reparti blocco basso 5 4 1 preciso però non iper difensivo perché si andava a fare pressione organizzata si andava a fare pressione sulla palla e si sta iniziando a vedere quello che il lavoro di difesa laterale perché il napoli non è abituato è passato da un sistema di gioco che praticamente portava una difesa diversa ad un assorbimento a cinque canali e dove ci devi mettere tantissima attenzione soprattutto tutte le scalate devono essere in sincro e nel secondo tempo abbiamo visto un napoli di sacrificio perciò vi dico la vittoria di antonio conte il 3 a 0 per quara che si presenta con il dito qui così no poi noi leviamoci un po di questa di questa gentaglia che fino ad ora sperava che questo napoli andava già nel baratro ma ritorniamo alla partita che è meglio oggi abbiamo visto un napoli che nel secondo tempo ha saputo soffrire perciò vi dico la vittoria contiana perché si è reso conto e ovviamente non ci sono stati cambi raga perché era difficile ora andare scusatevi andare a prendere dalla panchina perché dalla panchina c'era ben poco entra neres dopo che quara schella fa due tunnel durante la partita e neres disegna il gol no il gol quello lì che che ti fa capire che giocatore è finta immediata quando prende palla salta l'avversario palla indietro per il ciolito simeone che meritava il gol perché entra va a recuperare tante palle raga bene bene tutti poi domani ovviamente usciranno le pagelle tra pochissimo andiamo in live perché la live la facciamo iniziare alle 23 e 15 così avete un pochino più di tempo per prepararmi perché voglio sentire le vostre considerazioni nella live però potete anche lasciare il vostro commento qui sotto che per me è importantissimo ricordatevi anche di iscrivervi al canale comunque un napoli bello pulito quello che non mi è piaciuto tantissimo ma ripeto dopo un 3 a 0 come abbiamo dato dei voti bassissimi nella partita contro il verona qui diamo dei voti sufficienti è stato solo raccamani che per esempio nell'azione del primo tempo dove il Bologna è andato vicino al gol sbaglia completamente quella lettura che è semplicissima ancora dei movimenti non precisissimi quando si prende la palla scoperta no quando si deve scappare leggermente indietro e si buca qualche pressione però ragazzi secondo tempo bene intelligente Antonio Conte che richiedeva veramente forza su ogni palla ha chiesto tantissimi sacrifici a questi ragazzi e vi dico la verità raga la reazione è stata importante tutt'uno è il gol di Giovanni Di Lorenzo raga che va sotto la curva bacia la maglia finalmente spero che si toglie un po' questa cosa togliamo da mezzo tutto quello che è successo raga perché ora dobbiamo andare tutti verso la stessa direzione il Napoli parte da una vittoria importantissima come avete visto in Serie A non si sta capendo niente l'Atalanta perde la Roma perde è un momento calcio estate però devo dire che non è tutto a posto però i tre punti sono importantissimi e soprattutto il Napoli del secondo tempo mi è piaciuto tantissimo perché nel primo tempo ci sono state delle sbavature ma nel secondo tempo veramente compattezza concretezza e solidità soprattutto tra i reparti va bene blocco basso ma ripartenze precise tutti sapevano quello che dovevano fare bene anche Politano poi ripeto le pagelle le faccio con calma dopo che ho rivisto la partita per essere sempre corretto e sempre onesto con voi raga comunque i tre punti erano fondamentali perché poi questa squadra doveva anche sbloccarsi mentalmente di fronte c'era una squadra iper organizzata era giusto stare attenti alle linee di passaggio però bene bene tutto la difesa anche anche Rachmani l'ho detto già bene di Lorenzo in entrambe le fasi da quest'altro lato Mazzocchi qualche piccola sbavatura ma nella partita raga ci ha messo di tutto ci hanno messo tutto tutti e questa è la cosa che mi interessava poi entra lo scambio tra Cavara e il brasiliano che è proprio solo un antipasto di quello che potremmo vedere all'arrivo di Romero Lukaku all'arrivo di qualche altro acquisto perché se il centrocampo viene rinforzato in questo secondo tempo potevi dare un po' di ossigeno al robot che è diventato un robot ragazzi il robot che è un robot quanto si trovano in sintonia lui e anche sa però ora per esempio con McDominay con Gilmour ovviamente non dovevi per forza soffrire tutto il secondo tempo perché mettevi forze fresche perché Conte chiede un gioco un lavoro di sacrificio raga sacrificio totale e questo ha portato alla vittoria 3-0 non era come posso dire 3-0 quello contro il Verona 3-0 contro il Bologna ok ma il Napoli ha gestito perfettamente il secondo tempo mi fa piacere anche quando cosa che non vedevamo mai si deve andare lungo si va a lungo Meret molte volte non è voluto uscire dal basso scusatemi perché voleva buttare quella palla avanti intelligenza sacrificio e compattizia raga i primi tre punti del Napoli in serie A tra poco inizia la live un bacio e un abbraccio da Sasa e sempre forza Napoli sempre 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 ciao 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 ciao